Allora, tu si incominzate a preparare per l'unatella. Io sono già cacciati tutte le borloche e l'albero. L'altro ieri sono messi le luci da fuori alla finestra e sono pure prenotati il cardone e l'agnello per il pranzo. E tu invece? Io non faccio niente, non tengo le quattrine. Allora, mangi nemmè. Allora, vè buona. Che cosa? Non mangi nemmè. Non. Io a me. Non ciò pensè. Ma perché no? Il cardone mi piace. Cine. Ti mangi l'agnello. Ma quel che fia tu e l'ucare buona. Lo had. Non. Non, non. Non. Non, non. Non, non. Non, non. Grazie a tutti.